La settimana scorsa Ursula von der Leyen ha annunciato un sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia e ancora non è stato approvato per il veto dell'Ungheria. Tutto questo mostra ancora una volta l'assurdità della regola dell'unanimità, cioè tutti gli altri stati sarebbero favorevoli ma l'Ungheria blocca il pacchetto. Voi pensate al sistema di governance dell'Europea, è come se in Italia invece di avere un governo e un Parlamento facessi una bella riunione dei 20 governatori delle regioni che all'unanimità devono decidere qualunque cosa. Sarebbe un sistema assurdo e chi lo proponesse come riforma costituzionale verrebbe inviato al più vicino reparto di genere mentale. Ebbene questo è il sistema di governance dell'Unione Europea per la politica estra di sicurezza e di difesa e per la politica fiscale del bilancio. Una follia, abbiamo bisogno di superare l'unanimità subito e non a caso la conferenza sul futuro dell'Europa, i cittadini europei hanno chiesto cosa? Il superamento del diritto di veto, il superamento dell'unanimità, perché qualunque cittadino si accorge che questo sistema non è efficiente, non è democratico, non ha una legittimità. Bisogna superarlo e per questo che bisogna riformare i trattati europei.